Eccoci qua, oh che bello è, che bello è, avete presente quando avete quella sensazione di tristezza perché la partita sta finendo? Ecco io l'ho avuta questa sera, io quando mancavano 4 minuti di recupero ero super super triste, perché avrei voluto vedere ancora tanti minuti di questa Juve Perché questa Juve emoziona, questa Juve emoziona ragazzi Parto da la cosa più semplice e cioè arriveranno signori i momenti negativi, perché arriveranno, non voglio vendervi un'illusione, non voglio regalarvi una certezza che si basa su nulla La Juventus avrà dei momenti negativi, dei periodi difficili, fisiologico, è naturale Però se mi sono dovuto sentire per una settimana che era solo il Como Adesso posso sentirmi dire che questo è la Sverona che aveva battuto 3-0 il Napoli nella prima partita di campionato Il Napoli che ha battuto ieri sera 3-0 il Bologna, che è una squadra che fa la Champions E che ha fatto un primo tempo super tosto, perché lei ha fatto veramente un primo tempo super tosto Possiamo dire, almeno stasera, di essere felici in una partita che era sicuramente complicata perché su questo campo si fa sempre fatica E io mi godo il momento, non posso fare altro che godermi il momento, io devo godermi il momento Quindi sì, sicuramente arriverà il momento in cui si farà più fatica, arriverà il momento in cui saremo anche tristi di determinate situazioni Ma oggi vi dico, salutate la capolista ma fregatevene, fregatevene della capolista Godetevi questa Juve, che ha tanti spunti Perché è una Juventus, ragazzi, che ha tantissimi ragazzi Cioè, se quella schierata da Tiago Motta con il Como era praticamente la Juve più giovane in assoluto da non so quanti anni a questa parte Da quando la Juventus aveva i tre punti, da quando la Serie A aveva i tre punti E questa di stasera forse è ancora più giovane Perché togliamo UEA e Turam e inseriamo Fagioli e Savona Bangula ha fatto due partite praticamente da titolare Un gol, due assi su un rigore procurato La Juventus ha segnato sei gol e ne ha subiti zero Ha giocato contro due squadre non di primissimo livello Ma ragazzi, ad agosto, ad agosto, giocare contro due squadre che devono lottare per salvarsi Eh, non è mica sempre bello Non lo è Perché queste sono squadre che fanno delle preparazioni fatte apposta Per essere immediatamente in forma, pimpanti Subito Perché i punti li devono fare adesso E quindi io sono super soddisfatto di questa partenza da Juventus Cioè, mi interessa relativamente poco il fatto di essere primo in classifica Perché se mi metto a parlare del primo posto in classifica dopo 180 minuti Sono da ricovero Sono da ricovero Però la Juventus ha dei pattern, ha delle certezze E Tiago Motta sta facendo un lavoro meraviglioso Meraviglioso Io credo che all'interno di tutto l'Alegribis la Juventus non sia mai stata prima in classifica Dopo due partite Corrigetemi se sbaglio, ma dovrebbe essere così Perché Mi sembra proprio di sì Ma, ripeto Fa lo stesso Cioè, il primo posto lo lascio da parte È ovvio che Fa piacere Guardi la classifica e dice Ok, l'abbiamo già messa come piace a noi Come pare a noi Però concentriamoci su quello che è stato Su Vlaovic che finalmente trova il gol e ne trova due Non sbaglia il reore E già questa è un'ottima notizia Ancora una volta uno dei ragazzi su cui Tiago Motta ha puntato in gol In realtà Savona ne aveva fatti due Uno annullato per fuorigioco, netto L'altro invece è un gran gol È un gran gol per tempi di inserimento Savona mi ha ricordato Lich Steiner per tutta la partita Sembrato un giocatore del passato glorioso juventino Uno stantuffo Un giocatore che fa la spola avanti e indietro per il campo Un Juventus giovane Un Juventus che si fa voler bene Un Juventus pimpanto Un Juventus che quando è su ultra zero Non ha paura e vuole andare a fare il quarto Un Juventus che si diverte Un Juventus che sa gestire il vantaggio Una Juventus che fino al culo in break del primo tempo Non mi era piaciuta Poi Tiago Motta è stato bravissimo A metterla a posto Perché poi la Juventus è iniziata a girare il pallone Ha iniziato a essere sicura di se stessa E ha concluso secondo me una partita Quasi limite della perfezione Dove Lella Sverona Si rende pericolosa in un'occasione Perché Rui Che è il terrestino sinistro degli ultimi minuti È scivolato Ed è riuscito a tirare in porta di Gregorio Perché per il resto Veramente Normalissima E pura amministrazione della Juve Quindi molto Molto bene questa partita ragazzi Molto bene Vi dico Secondo me Anche una partita in cui Non hai creato tantissime occasioni Ma non è stato nemmeno necessario Perché è stato pazzesco il livello Secondo me Di gestione La maturità Nella gestione della palla Della Juventus Io non so quanti passaggi Abbia fatto la Juve Mi pare sopra i 500 Quindi si è andati a migliorare anche Quel dato dei passaggi riusciti Che era stato fatto contro il Como Dove avevi assolutamente dominato il campo Ma Juventus mi sembra veramente Sempre padrona Perennemente Padrona Del gioco Per quello vi dico Arriverà sicuramente il momento in cui Andrà in difficoltà Già questi primi minuti a Verona Secondo me Tra imprecisione e fretta Erano stati dei minuti Che mi avevano fatto dire Attenzione Occhio Non è detto che Riusciremo a dare continuità Invece poi siamo riusciti a venirne fuori Siamo riusciti a calmarci Perché era davvero Un discorso relativo alla testa Perché avevamo necessità Di ricompattarci Di trovare gli uomini Soprattutto cercare Ildis Perché è stato l'uomo Che ha acceso un pochettino La fiamma E infatti il gol dell'1-0 Nasce proprio da un assist Del numero 10 Che ha giocato anche oggi Da numero 10 Il gol dell'1-0 Mi è piaciuto particolarmente Perché nel momento di difficoltà Della Juve Il break a centrocampo Del centrocampista La lettura Fatta bene Del trequartista Che fa un passaggio Fatto bene E il gol D'attaccante di Vlaovic Era tutto perfetto Poi per come lo vedo io Il calcio Quando tu riesci ad andare A fare gol O comunque Un break O una ripartenza Arrivare a concludere l'azione Con due o tre passaggi al massimo È meraviglioso Quindi quel pressing Lì a me è piaciuto tanto Quel break di Locatelli pulito Quel passaggio di Ildis E Vlaovic Che in mezzo a tre uomini Riesce A fare gol Gol del 2-0 Abbiamo già detto È stato Savona Con un ottimo tempo di inserimento È il 3-0 È la Juve Che si diverte Va sugli esterni Cerca l'ampiezza Con Bangula Ancora una volta Giocatore che sta facendo Veramente Molto Molto bene In queste prime Apparizioni Ancora una volta Gatti Capitano Ancora una volta I brasiliani Tranne Bremer In panchina Insomma Tiago Motta Sta iniziando A costruire la sua Juve Juve che Devo dirvi la verità In queste prime due partite In emergenza totale Ha dato delle ottime risposte Perché ora Si aggregheranno Nico González Francesco con Seisau Vedremo anche Gli altri sul mercato Oggi c'era Calulu Che ha fatto il suo esordio Vedremo quando Torneranno UEA e Turam Degli infortuni Lo stesso Milik Che era infortunato C'è un giocatore Che non ha ancora giocato Danilo ha fatto pochi minuti Non è ancora entrato Neanche McKennie Per dire Che un giocatore Che è stato reintegrato Insomma Io credo che ci siano Ottimi spunti Per questa Juve Tante notizie positive E poi È ovvio Purtroppo Dobbiamo anche Parlare di mercato Dico purtroppo Perché La partita è stata Talmente piacevole Secondo me Che andare a Cambiare l'argomento È anche brutto Ma poi Continueremo a parlare Della partita Nei prossimi giorni Anche perché poi Ora c'è la Roma Che è il vero Primo test Importante Impattante Della stagione Ma alla Roma Ci arriveremo A mercato concluso E questa è già Un'ottima notizia Si è un po' complicata La situazione Che ha attacchiesa Al Barcellona Si parla anche Di Premier League Per lui Vedremo un attimino Ma in questo istante Quindi cambiamo schermata Ha tweetato Veramente pochissimi Istanti fa Anche Fabrizio Romano Su Cobainers Nel Juventus Prima della partita Ha avuto Delle Chiacchierate positive Per Cobainers È molto convinta Di poter avere La luce verde Dall'Atalanta Dopo oggi Si attende La decisione ufficiale L'offerta è sempre quella 52 più 7 Di bonus Con la clessidra Per Cobainers Attenzione La giornata di domani La giornata di domani Potrebbe essere importante Impattante Anche fronte a mercato Molto molto bene Direi che Inserire all'interno Di questa squadra Anche un giocatore Come Cobb E chissà Magari anche Sancho Potrebbe essere Molto molto bello Quindi giornata Bollente Anche domani Dobbiamo per forza Di cose Dedicare uno slot Anche al mercato Nella giornata di domani Dobbiamo fare così Quindi vi faccio Una promessa Domani mattina Vi sveglierete Con le vostre pagelle Tutte belle Parleremo della partita Domani mattina Pagelle Per gli abbonati Al canale Ovviamente Le pagelle Saranno già disponibili Questa notte Per tutti gli altri Domani mattina alle 7 E poi nel pomeriggio Parliamo di mercato Parliamo di Cobainers Parliamo di chiesa Parliamo di Sancio Vediamo cosa succede Andiamo a letto Col sorriso Ci svegliamo col sorriso E finalmente Respiriamo un'aria Veramente nuova Pulita Inedita Poco inquinata Respiriamo un'aria Puramente dedicata Alla Juventus Ed è bello così E ce lo meritiamo Forza Juve ragazzi Forza Juve Alla Juventus